da qui stiamo con la tifoseria e colpidienze allora come che come va stasera sta partita vincemo vincemo perché vincemo diccelo siamo i più forti più forti di chi e tutti chi è qua il capo ultrà e sei tu dai che sembra te chiappo ignorda allora spiegaci in bocci questa partita contro chi giochiate giochiamo contro giochiamo il derby contro san giorgio e vinceremo perché siamo più forti di loro allora il campionato come sta andando bene bene siamo 15 su 14 e con questa partita miglioreremo la loro posizione con la nostra posizione allora partita la scorsa settimana towers e ascoli avete fatti neri e quindi avete fatto una bella partita ma secondo te se vorresti dire qualcosa all'allenatore della squadra delle colpidienze cosa gli diresti mettere subito in campo facendo e pulitori per per andare avanti senti prima di lasciarvi con questo grande tifo com'è l'urlo qua o l'urlo prossima partita contro in trasferta non mi ricordo come siamo messi in classifica 15 sui 14 a buono allora in bocca al lupo per oggi